non c'è modo migliore per sapere se si ama o si odia qualcuno che fare un viaggio con lui è quello che diceva Mark Twain ma purtroppo tra lockdown, pandemia e sospensione di Schengen di viaggi se ne possono fare gran pochi noi speriamo che scopriate che ci amate attraverso questo viaggio con noi nei meandri dell'Unione Europea L'Europa può essere gli Stati Uniti dell'Europa Europa è un problema, appetite Europa e Killis L'ECB è pronta a fare qualsiasi necessità per preservare l'Europa L'Europa non funziona e è tempo che lo romperemo La suggerirò per il ruolo di Capò A nuova decada ha già iniziato Parlare di viaggio al tempo di lockdown e pandemie globali può sembrare uno scherzo di cattivo gusto In realtà sarà che le frasi fatte hanno sempre ragione ma ti accorgi del valore delle cose solo quando non le hai più Le situazioni spiacevoli a cui l'emergenza ci ha abituati sono diverse, alcune sicuramente più severe di altre Ma se c'è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato sono le limitazioni alla mobilità Le varie restrizioni allo spostamento che hanno riguardato moltissimi paesi nel mondo Tu Lorenzo come hai passato questo lockdown e l'impossibilità di viaggiare? Cosa... come hai vissuto questo periodo? Io chiaramente come tutti immagino ci ho sofferto Ci ho sofferto particolarmente perché sono dovuto rientrare in anticipo da un viaggio Mi trovavo in Canada quando è scoppiata la pandemia E poi essendo bergamasco come potrai immaginare l'ho vissuta particolarmente male sulla mia pelle Ho capito chiaramente la situazione Però avendo un animo da viaggiatore mi è dispiaciuto molto non potermi muovere liberamente Tra l'altro so che anche tu sei un amante dei viaggi Tu come l'hai vissuta invece? Io sono un amante dei viaggi e dei biglietti lasminut Diciamo che prima di questa pandemia da covid-19 Passavo molto tempo della mia vita sui vari siti di offerte lasminut Come dicevo E il fatto di non volerlo fare E di sapere che appunto nel mondo qualcosa era cambiato Mi ha destabilizzata tantissimo Penso che in verità sto ancora cercando di elaborare il lutto Ecco ad elaborare il lutto però chiaramente ci siamo noi e ci sarà chi come noi non ha potuto viaggiare Ci saremmo molti Saremmo sicuramente tantissimi Però qui c'è una nota spiacevole che vorrei aggiungere ad elaborare il lutto saranno anche tanti paesi che vivevano di turismo Tra cui il nostro paese per cui il turismo costituisce più di un decimo del prodotto interno lordo totale E quest'anno leggevo i dati dell'organizzazione mondiale del turismo Il numero di turisti internazionali in Europa è calato del 60-80% Cioè quasi quattro quinti dei turisti sono spariti È un'immensità sì Ah guarda io arrivo da una regione molto turistica che è la Puglia E che solitamente è sempre invasa da turisti internazionali Soprattutto turisti europei che vengono a passare a spendere la bella stagione appunto in Puglia E quest'anno posso dare conferma pratica del fatto che turisti internazionali fondamentalmente non ce ne fossero Tantissimi italiani ma pochi pochi europei Tantissimi italiani e tantissimi bergamaschi Perché in Instagram feed di quest'estate vedevo solamente persone in Sardegna e in Puglia Sì e poi se ci pensi abbiamo avuto l'opportunità di scoprire in qualche modo l'Italia Anche se da un lato questo lo abbiamo voluto Dall'altro invece siamo in qualche modo stati costretti a farlo Infatti chi di voi fra gli ascoltatori era abituato a muoversi da uno stato all'altro dell'Europa Oltre a disperarsi, come me e Lorenzo, si sarà sicuramente accorto che durante la fase più critica dello scorso lockdown Spostarsi liberamente all'interno dell'Europa non era più possibile Il 17 marzo scorso infatti uno dei trattati più importanti dell'Unione Europea era stato temporaneamente sospeso Il trattato in questione, come molti di voi sapranno, è il trattato di Schengen Tappa zero del nostro viaggio è il piccolo cantone di Schengen, in Lussemburgo Dove nel 1990 venne firmato l'omonimo trattato destinato a diventare uno dei pilastri e dei successi del progetto europeo L'accordo ha istituito il cosiddetto spazio Schengen, un'area di libera circolazione In cui le frontiere nazionali di 26 stati europei sono state abbattute per favorire l'integrazione all'interno dell'Unione E quindi all'interno del continente A Schengen hanno aderito 22 stati membri dell'UE, più San Marino, Vaticano e Monaco Che ne fanno parte per mezzo di Italia e Francia E quattro stati terzi, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein Che hanno firmato e ratificato la convenzione pur non facendo parte dell'Unione Ma di cosa si tratta quando parliamo di Schengen? Dalla entrata in vigore del trattato nel 1995 è cresciuta la cooperazione tra le autorità degli stati membri dell'area I controlli in frontiere interni sono stati ridotti al minimo, se non per alcuni casi particolari E persone e merci si muovono oggi liberamente all'interno del continente, senza grosse difficoltà burocratiche E' solo grazie all'accordo di Schengen che molti di noi hanno potuto prenotare un volo last minute per Parigi o Barcellona E partire l'indomani stesso usando solo la propria carta d'identità Grazie a Schengen, noi europei abbiamo la possibilità di viaggiare in quasi tutti gli stati dell'Unione Senza dover richiedere i visti che a molti nostri coetanei non europei sono spesso negati Viaggiare così liberamente, ordinare dei libri che arrivano da uno o qualsiasi dei paesi Schengen E riceverli dopo pochi giorni a casa Tutto questo ha una portata molto più rivoluzionaria di quella a cui siamo abituati a pensare Quando a causa della pandemia il trattato è stato temporaneamente sospeso Quella è stata forse la prima volta in cui molti di noi viaggiatori europei hanno capito di vivere in un privilegio La tappa zero di questo nostro viaggio sarà il punto d'inizio, il punto di arrivo di questo primo episodio Partiti da Schengen, dobbiamo ora fare un salto indietro nel tempo e tornare momentaneamente in Italia Sulla piccola isoletta di Ventotene Siamo nel 1941 e sull'isola si trovano tre uomini e una donna costretti al confino A causa delle leggi speciali per gli oppositori politici del regime fascista I tre uomini sono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni Oggi i loro nomi si trovano sulla copertina di un libricino che è passato alla storia come il manifesto di Ventotene Il manifesto, scritto in gran segreto, è stato reso noto al pubblico grazie alla donna di cui abbiamo parlato, Ursula Hirschman E da allora il manifesto di Ventotene è diventato il manifesto del federalismo europeo Oggi, senza dubbio, possiamo collocare colorni rossi e spinelli tra i padri ispiratori del progetto europeo Il nostro viaggio però è appena cominciato ed è il caso di muoversi verso la nostra nuova tappa Ci spostiamo dunque verso nord, verso Zurigo, in Svizzera È il 1946, sono passati cinque anni e la più grande e sanguinosa guerra della storia dell'umanità si è appena conclusa Con noi, questa volta, c'è un altro grande uomo Si tratta di Winston Churchill, che, finita la guerra, ha perso le elezioni E oggi si trova a Zurigo in qualità di leader dell'opposizione In un discorso che è rimasto scolpito nella storia Churchill parla della necessità di costruire gli Stati Uniti d'Europa Lo so, è strano Possibile che a parlare di Stati Uniti d'Europa sia stato proprio Churchill Che è un inglese e per di più è leader del partito conservatore Che oggi si è fatto promotore della Brexit Beh, va detto che Winston Churchill voleva gli Stati Uniti d'Europa per il resto d'Europa Non per sé Ma è stato il primo leader di quel livello a lanciare un'idea del genere E non solo è stato un inglese a lanciare l'idea degli Stati Uniti d'Europa Ma è stata la Francia ad affossarla Sì, oggi le situazioni sono quasi opposte Ma all'epoca la Francia aveva grandissimi sospetti nei confronti della Germania Del resto, le due erano stati rivali in moltissime guerre E la Germania era da sempre un'eterna minaccia nei confronti della Francia Oggi la situazione è cambiata moltissimo Ma all'epoca questi ricordi erano vivissimi Tanto vivi da spingere la Francia a rifiutare ogni idea di possibile collaborazione La storia avrebbe potuto concludersi qui Con il rifiuto francese di collaborare con la Germania Se avete deciso di intraprendere questo viaggio con noi, però Potreste aver indovinato che non è affatto così La nostra prossima tappa è proprio Parigi Ironia vuole che a simboleggiare la mano tesa della Francia verso la Germania Sia stato un uomo per metà francese e per metà tedesco Si tratta di Robert Schumann, allora ministro degli esteri francesi È il 9 maggio 1950 E il ministro sta rilasciando la dichiarazione che da allora è nota con il suo nome Non è un caso dunque che proprio qui a Parigi Venga firmato l'accordo che dà origine alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio La CICA, il primo antenato dell'Unione Europea A firmare l'accordo furono solo sei paesi Il Belgio, la Francia, la Germania dell'Ovest, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi La CICA prevedeva molte istituzioni che si sarebbero poi evolute in quelle che conosciamo oggi Tra cui l'antenato della Commissione Europea, l'Alta Autorità della CICA La prima presidenza dell'Alta Autorità fu affidata a un uomo francese, Jean Monnet Quest'uomo è diventato famoso per essere stato il primo uomo della storia ad essere insegnato della cittadinanza onoraria europea Questa onoreficenza nella storia è stata conferita solo ad altre due persone Helmut Kohl e Jacques Delors Ma per parlare di loro c'è ancora un sacco di tempo Noi, invece, dobbiamo proseguire nel nostro viaggio La prossima tappa è una bellissima residenza belga nella regione di Bruxelles È il castello di Val Duchesse E in questa residenza si sta tenendo la conferenza intergovernativa per il mercato comune e l'Euratom A capo della conferenza c'è un altro dei padri fondatori dell'Unione Europea Il belga Paul-Henri Spack In seguito alla conferenza è stato pubblicato un report che prende il nome proprio da lui E che portò nel 1957 alla firma dei trattati di Roma Che istituirono la Comunità Economica Europea e l'Euratom È proprio con la Comunità Economica Europea, o CE, che vengono stabilite le quattro libertà fondamentali Che oggi noi diamo così per scontate La libertà di circolazione di merci, di persone, di servizi e di capitali Non siamo ancora arrivati alla creazione di un vero e proprio mercato comune Ma le basi vengono gettate proprio con questo trattato Le istituzioni europee si sarebbero consolidate con il tempo Ma di questo discuteremo più avanti Ritorniamo adesso alla tappa zero del nostro viaggio Ad uno dei più importanti risultati europei per la libertà di circolazione Siamo a Schengen Qui si incontrano i confini della Francia, della Germania e del Lussemburgo Qui si parlano le lingue di tutti i paesi che hanno firmato gli accordi che prendono il nome da questo luogo È proprio qui, nel 1985, che per la prima volta questi paesi siglano il Patto di Schengen Il Patto che permette di abolire le proprie frontiere interne Permettendo a tutti i cittadini di tutti i paesi partecipanti Di viaggiare dall'uno all'altro solamente con la propria carta d'identità È proprio da qui che si parte Per arrivare alle infinite opportunità di cui Anna ci ha parlato prima E forse sono proprio questi enormi vantaggi e questi benefici A cui ormai siamo abituati Che ci hanno spaventato così tanto Quando il trattato è stato sospeso Come e perché il trattato di Schengen è stato sospeso? Cosa ha implicato questa sospensione? Per capirlo ci siamo rivolti a un esperto di Unione Europea Il professor Rinoldi, docente dell'Università Cattolica Che ha accettato di immolarsi come primo ospite di Orizzonti Europei Rispondendo ad alcune delle nostre curiosità Buongiorno professore e grazie per aver accettato il nostro invito Vado dritta al sodo con la domanda O meglio, con le domande La sospensione di marzo del trattato di Schengen Ha creato non pochi timori e perplessità Quale tipo di limitazioni sono state introdotte allora? E ci chiedevamo poi se la sospensione sia stata una novità Per la comunità internazionale O se lo spazio Schengen era già stato messo in discussione in altre occasioni E poi quale futuro pensa sia plausibile immaginare per la libertà di circolazione? Sì, grazie Io mi permetto di riassumere queste domande in un discorso che abbia un suo filone logico Anche perché abbiamo celebrato da pochi giorni un anniversario 40 anni Il 27 novembre 1990 L'Italia firmava il secondo dei due trattati cosiddetti di Schengen Perché Schengen? Schengen è una ridente cittadina del Gran Ducato del Lussemburgo Dove si è svolta la cerimonia della firma nel 1985 del primo trattato Poi integrato appunto da un secondo Le regole di Schengen all'inizio si applicavano fuori Unione Europea Non c'entrava l'Unione Si era al di fuori delle allora tre comunità europee Esisteva la comunità economica europea La comunità europea dell'energia nucleare La comunità europea del carbone e dell'acciaio Poi due comunità sono state assorbite dal trattato sull'Unione Europea E' rimasta accanto all'Unione Europea la comunità europea dell'energia nucleare, dell'energia atomica Allora, le regole di Schengen per di più allora riguardavano soltanto cinque stati dei sei fondatori delle comunità Cioè Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo L'Italia si è giunta in ritardo E questo è importante saperlo Si è giunta in ritardo perché in ritardo ha adottato una normativa nazionale indispensabile all'attuazione delle regole di Schengen Cioè il nostro paese non aveva all'inizio una adeguata disciplina di protezione della riservatezza, della privacy E cosa c'entra la privacy con Schengen? Ora, il sistema di Schengen regola l'abbattimento, l'eliminazione dei controlli di frontiera fra stati vicini All'inizio appunto i cinque stati europei che ho nominato prima E prevede, il sistema di Schengen viceversa, l'approfondimento dei controlli alle frontiere di questi stati verso il loro esterno Verso stati non contraenti Occorre insomma con Schengen uniformare le procedure di ingresso delle persone I visti Stabilire quali stati hanno bisogno di un visto per far entrare i loro cittadini in uno stato dell'unione Bisogna uniformare i controlli Perché entrare in uno stato dell'unione da fuori, da un paese terzo, era un problema Significava, una volta entrati, poter circolare in via di principio senza controlli in tutti gli altri stati Che fanno parte del sistema Schengen E l'ingresso, teniamolo ben presente, avviene non soltanto da frontiere terrestri Ma anche da frontiere marittime, frontiere aeree Progressivamente queste regole sono state sia ricondotte all'unione europea Cioè portate dentro il sistema dell'unione europea da fuori che erano Sono state introdotte, riportate in quel capitolo del trattato sul funzionamento dell'unione Che si chiama spazio di libertà, sicurezza e giustizia Sia le regole di Schengen sono state gradualmente estese a un numero notevole di stati Quali? 22 fra i 27 stati membri attuali dell'unione dopo che è uscita la Gran Bretagna Ma anche le regole di Schengen sono state estese a Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Svizzera Che hanno un accordo di cooperazione con l'unione europea E il sistema di Schengen si applica pure, non è una semplice curiosità, a Principato di Monaco Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Repubblica di Andorra Che sono rispettivamente stati compresi fra due stati membri dell'unione europea, Francia e Italia O come il caso di Andorra, chiusi tra Spagna, chiusa Andorra tra Spagna e Francia Dicevo 22 stati dell'unione perché ancora non sono pronti per la piena applicazione delle regole di Schengen Quattro stati membri dell'unione di recente ingresso Cioè Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia Allora, quattro stati più 22 che dicevo fanno 26 L'Irlanda è fuori, ha preferito l'opzione lecita di non accettare l'applicazione della disciplina di Schengen Si tratta dunque, quella di Schengen, di una cooperazione internazionale molto particolare, molto articolata E' una disciplina che costituisce il corollario, anzi la cornice Che regge, come una cornice regge un quadro, che regge l'intero sistema dell'unione europea Di libera circolazione di persone, merci, servizi Cioè servizi bancari, assicurativi e di altro genere E libera circolazione di capitali Pensiamo che il mercato unico europeo è in vigore dal 1 gennaio 1993 Mentre il sistema di Schengen è in vigore dal 1995 I due sistemi sono interdipendenti Si tratta di un sistema, quello di Schengen, che riconosce il diritto di circolare senza ostacoli Ai cittadini europei, certamente Ma anche a quelli, cittadini, di stati non europei Che entrino legalmente e poi legalmente circoli nel territorio dell'unione europea dei suoi stati membri Per questo, per ottenere questo risultato Le regole di Schengen prevedono anche un sistema tecnologicamente integrato Informatico, coordinato Il sistema cosiddetto SIS Sistema informativo Schengen Che rende interoperabili le banche dati nazionali Banche dati di polizia, dei ministeri degli interni Un sistema che consente l'indicazione di condanne subite O di altri pregiudizi in capo a persone Che debbono essere considerate circolanti nello spazio Schengen Questo sistema consente soprattutto L'ingresso nell'unione europea di persone che arrivano da fuori Unione Anche coordinando gli uffici giudiziari di stati membri dell'unione E gli uffici di polizia dei vari stati Ecco perché a questo sistema integrato di informazione Deve corrispondere un'adeguata disciplina della privacy Quella famosa disciplina che l'Italia ha tardato ad introdurre Una regola che serve ad evitare abusi E consentire alle persone interessate di intervenire Per controllare l'esattezza, la correttezza dei dati contenuti nel sistema Per quanto riguarda l'apertura delle frontiere statali interne all'unione Fra stati membri dell'unione E' prevista, attenzione, prevista Disciplinata la possibilità di sospensione del sistema E la reintroduzione Rispondo a una delle domande Dei controlli La reintroduzione di controlli per motivi eccezionali Così come è stata sospesa Il sistema, la regolamentazione del patto di stabilità Che riguarda questioni economiche La sospensione deve essere in via di principio Non superiore a 30 giorni Ma naturalmente può essere prorogabile per fondati motivi Si pensi a una sospensione che può avvenire per eventi politici come il G8 Forse si ricorderà quello che è avvenuto nel 2001 in Italia E che ha portato ad esempio alla morte di un manifestante Carlo Giuliani O manifestazioni come il G20 L'Italia nel prossimo anno ospiterà il G20 Si pensi a manifestazioni sportive Una partita molto importante di calcio Una finale Un campionato del mondo Un'Olimpiade In questi casi possono essere reintrodotti controlli alle frontiere fra stati membri Per finalità di ordine pubblico, di sicurezza eccetera Vado a rispondere a un'altra domanda che mi è stata fatta E quindi anche a concludere il mio intervento Dal 2006 Mi limito al 2006 Mi limito quindi ad anni piuttosto recenti Le sospensioni del sistema di Schengen sono state ben più di 240 Anche a motivo qualche volta di episodi terroristici Ricordo quelli avvenuti in Francia nel 2015 Noti come gli eventi del Bataclan A Bruxelles nel 2016 Eventi all'aeroporto e altrove A Barcellona sulle Ramblas nel 2016 Ancora poche settimane fa A Nizza in ottobre E a Vienna il 2 novembre Generalmente si trattava in questi casi di responsabili Che erano addirittura cittadini europei A Vienna il 2 novembre E' stato ucciso l'autore degli attentati Che era nato e cresciuto a Vienna Certo aveva la doppia cittadinanza austriaca e macedone Perché era originario con la famiglia di quei posti Ma in genere è difficile trovare in questi attentati Degli stranieri pure e semplici Salvo il caso di Nizza Salvo il tunisino dell'attentato di Nizza Non quello del 2016 Quello recente di ottobre 2020 Che era arrivato a Lampedusa Illegalmente spostatosi dall'Italia alla Francia E in Francia si era reso responsabile questo tunisino dell'attentato Quest'anno si è aggiunta l'emergenza sanitaria Che ha portato soprattutto in febbraio e marzo La commissione a autorizzare sospensioni di Schengen Quando alcuni stati già motu proprio l'avevano realizzata Per questo il presidente francese Macron Che già aveva chiesto nel 2019 Di intervenire con modifiche sulle regole di Schengen Oggi nel 2020 ha rafforzato le proprie intenzioni Ma le proprie intenzioni per fare cosa? Bisogna trasformare Schengen da un sistema nato per un'utilità economica A un sistema di sicurezza? Evidentemente no In termini di sicurezza bisogna semmai rivedere altre norme dell'Unione Bisogna rivedere le norme sulla competenza statale A vagliare le richieste d'asilo Bisogna rivedere norme dell'Unione Che consentano di distribuire i richiedenti asilo in vari stati Bisogna forse rivedere la competenza di alcune agenzie dell'Unione Ne nomino alcune Europol in materia di polizia Eurojust in materia di cooperazione fra giudici Frontex in materia di guardia di frontiera Easo in materia di sostegno all'asilo Bisogna forse modificare le competenze di queste agenzie In funzione del controllo dell'immigrazione Bisogna applicare il diritto d'asilo Il diritto al rifugio Accostandolo però al diritto di non migrare E in questo La Unione Europea sta già facendo molto Perché investe molti danari Nella cooperazione Allo sviluppo soprattutto dell'Africa E finisco Finisco con un'affermazione Per tutto ciò Occorre rientrare evidentemente In un regime di normalità In un regime che non sia di eccezionalità In un regime che sia di normale convivenza Come ci ha raccontato il professor Rinoldi Sono state più di 240 le sospensioni di Schengen Dal 2006 a oggi Un numero così impressionante Da ridimensionare immediatamente Le ansie e i timori Che aveva scatenato La sospensione dello scorso marzo L'Europa che ci è appena stata presentata È una realtà in continuo divenire Un'istituzione che si evolve Assieme alla propria comunità E che cerca O dovrebbe cercare In questa evoluzione Il punto di partenza Per il superamento dei suoi limiti E delle sue contraddizioni Ogni appuntamento di Orizzonti Europei Si concluderà con una rubrica Sulle opportunità europee Da prendere al volo Innanzitutto Sapevate che c'è un numero da chiamare O un form da compilare Per contattare l'assistenza Dell'Unione Europea? Si chiama Europe Direct Ed è il servizio a cui rivolgersi In una delle 23 lingue ufficiali Se si hanno dubbi O domande generali Sull'Unione Europea Per esempio Sulla possibilità di lavorare In un altro Stato membro O quali sono le linee guida Sulla qualità del cibo O magari più in linea Con i tempi in cui viviamo Quali sono i propri diritti Quando un volo viene cancellato Ci sono poi le opportunità Di cui parlavamo Oltre a quelle offerte Nell'ambito del programma Erasmus Plus Come gli scambi O il Corpo Europeo di Solidarietà Che approfondiremo Nelle prossime puntate Partiamo col dire Che le istituzioni europee Sono diverse E ogni anno Anche più volte all'anno Organizzano stage retribuiti Dando la possibilità ai giovani Di conoscere l'Europa Dall'interno Nonostante ogni istituzione Abbia delle politiche proprie Nella maggior parte dei casi È possibile svolgere Soltanto un tirocino retribuito All'interno di una Delle istituzioni europee È possibile reperire Più informazioni Sul sito per il personale Dell'Unione Europea EPSO.europa.eu Dove si può trovare Anche una sezione Dedicata ai tirocini E una lista delle istituzioni Che li offrono Dalla BCE Al Servizio per l'Azione Estera Dall'Agenzia per i Medicinali All'Europol Oltre a quelli Presso la Commissione Il Parlamento O il Consiglio Passando per comitati Uffici e agenzie Sempre dal sito di EPSO È anche possibile Candidarsi per ottenere Un contratto a termine Detto CAST O avviare la procedura Per un lavoro A tempo indeterminato A cui si accede Tramite concorso La competizione non manca E la procedura È spesso molto lunga Ma in questi casi Non ci sono limiti di età E alcune posizioni Sono accessibili Anche senza una laurea Per oggi è tutto Alla prossima Avete appena ascoltato Orizzonti Europei Il podcast di Orizzonti e Politici Sull'Unione Europea Se questo episodio vi è piaciuto Potete supportarci condividendo Passando parola a un amico Oppure andando ad aprire i link In descrizione Con i nostri consigli Grazie a tutti E arrivederci Alla prossima puntata Grazie a tutti